La nostra novità quest'anno è il configuratore, ovvero che ognuno può configurare la sella dei suoi sogni, ovvero possono cambiare i profili del anteriori e posteriori, i seggi, i partieri. Sostanzialmente non esiste più la sella standard, ma una sella creata appositamente su misura per ogni utente. Per noi è un'ottima fiera perché la novità del configuratore sono arrivati tantissimi ragazzi, tantissimi giovani, e quindi nuovi utenti sostanzialmente, quindi devo dire che è andata molto bene per noi.